Gli spari sotto la lente di ingrandimento di Paride Minervini, maggiore di paracadutisti ed esperto di balistica. Questa mattina è stato infatti conferito l'incarico da parte della Procura per la Perizia Balistica sulla morte di Mircea Vitalie, il moldavo ucciso a colpi di pistola dal gommista Freddi Pacini, che lo aveva sorpreso nella notte all'interno della sua officina di Monte San Savino. Pacini da anni dormiva all'interno dell'azienda, esasperato dai numerosi furti subiti. Minervini Senese ha lavorato anche alle indagini per l'omicidio di Nicola Calipari in Iraq e della giornalista Ilaria Alpi, si è occupato inoltre della morte di Gabriele Sandri nell'area di servizio di Badia Alpino. La difesa dell'imprenditore di Monte San Savino, indagato per eccesso di legittima difesa, ha invece nominato come perito di parte Andrea Allegri. La perizia sulla traiettoria dei proiettili sparati da Pacini sarà fondamentale per ricostruire la dinamica del drammatico episodio. Gli esiti saranno depositati il prossimo 28 febbraio.